Il Teramo gira a quota 28 punti in classifica, chiudendo il girone di andata con la sconfitta in casa della Viterbese per 1-0 ed allungando la striscia dei risultati senza vittorie a ben 8 consecutivi. A decidere al Rocchi un gol di Marchic a fine primo tempo. Paci ritrova a Piacentini che torna subito titolare in difesa dopo il reintegro in lista. Per il resto è la formazione vista contro l'Avellino. Nella Viterbese fa invece il suo esordio dal primo minuto l'ex Livorno Murillo. Pronti via ed è un diavolo che mette subito pressione agli avversari come non si vedeva da un po'. Diachite gira di testa un angolo ma soprattutto qualche minuto dopo Santoro si guadagna un calcio di punizione che Bombaggi manda sul palo. Lo stesso Santoro è però più veloce degli altri a fiondarsi sul pallone trovando Daga a negargli la rete. La Viterbese fa fatica a costruire ed il Teramo si fa ancora pericoloso. Al diciottesimo Ilari manda Bombaggi al tiro mentre poco più tardi Costa Ferreira in becca a Piacentini che di testa manda alto. Al ventitresimo Arrigoni impegna centralmente l'estremo di casa ma questa sarà l'ultima azione della prima frazione in casa a diavolo. Da quel momento in poi infatti la Viterbese sarà pericolosa da palla inattiva. Al trentaquattresimo Murillo non inquadra la porta da due passi sfiorando il palo. Al trentanavesimo Benzaia trova ancora la testa dell'attaccante brasiliano con Lewandowski che però para senza problemi. Dall'ennesimo calcio di punizione scaturisce il gol dei padroni di casa. Benzaia mette in mezzo, si crea una gran confusione in area da cui emerge Marchic e la sua deviazione vincente tra le proteste dei giocatori del Teramo. Il diavolo non inizia bene la ripresa e Baschi rotto ad impegnare inizialmente Lewandowski con Tunkara che lo segue a ruoto a poco dopo. La reazione bianco-rosse ancora in un calcio di punizione disegnato da Bombaggi che finisce di poco alto sulla traversa. Due minuti più tardi è Costa Ferreira a pescare l'ex Pordenone che di testa però trova Daga. Al trentatresimo ancora una volta Lewandowski a mettere una pezza su Tunkara lanciato a rete che si fa ipnotizzare dall'estremo del diavolo. Al quarantesimo poi l'ultimo sussulto. Gerbi confeziona una doppia occasione mettendo palla a terra in aria e trovando la combinazione Daga-Palo a negarlo il pareggio. Sulla ribattuta è ancora il legno esterno a ribattere i tentativi del Teramo. La formazione di Paci perde così il terzo posto in classifica e domenica prossima Palermo dovrà fare i conti anche con le squalifiche di Arrigoni e di Achite.